cari amici bentornati sul canale dove si scherza sulle cose serie si serieggia sulle cose scherzose per presentare un libro per presentarlo con il suo autore Pietro Gianassi volante 1 da centro vent'anni a cavallo della pantera questo è un titolo un sottotitolo che spiega già molte cose questo libro è un compendio di 20 anni di attività di un operatore di polizia sulla volante ha un capitolo per ogni anno di lavoro quindi 20 capitoli in cui si racconta sia una parte seria che induce alla riflessione su quello che è il lavoro dell'operatore di volante sia poi in un'altra parte scherzosa più distensiva che stempera un po le tensioni la prima parte sono 20 capitoli delle mie esperienze la seconda parte ho dato voce a dei colleghi che hanno a loro volta raccontato la loro esperienza di volante benissimo a cavallo della pantera ci si sta non per soldi ma per scelta si ci si sta per scelta per una missione questo è vero per me è vero per altri colleghi forse un po' meno infatti io distingo sempre in appartenenti alla polizia di stato e poliziotti bravo è una bella riflessione è scomodo stare a cavallo della pantera anticipa cielo è scomodo sia fisicamente perché l'abitacolo di una macchina attrezzata attrezzata intendo con vetri altri proiettili vetri che separano il settore posteriore dal settore degli operatori eccetera eccetera non è comodo però la scomodità più grande è che si vive una realtà ai più sconosciuta e a molti ancora di più indifferente capisco molto bene allora ascolta questo libro ha un costo popolarissimo costa solo 14 euro dove lo possono trovare i miei utenti questo libro si può trovare sul sito di pagliai e di l'editore di firenze sul sito mio www.pietrogianassi.com in cui cliccando sulla copertina si accede al sito dell'editore e poi su amazon su quasi tutti i venditori online si trova anche in qualche libreria ma ormai libreria più difficile perché è uscito già un paio di anni fa quindi benissimo ok allora io rimando farò farò un secondo video dove avrò letto il libro certo il libro è anche visibile sul sito corsi di tiro e che rimanda poi al sito dell'editore per l'acquisto benissimo e niente allora come stavo dicendo io mi riprometto e prometto di fare un secondo libro un secondo video su questo libro appena l'ho letto e darò ovviamente senza spoilerare niente sulla trama darò un giudizio più approfondito comunque il libro mi interessa molto e sono molto contento di potermelo portare via e poi potervene parlare noi ci vediamo al prossimo video ancora una volta circondati dagli zombie ma tanto abbiamo la pantera quindi apposta così ciao a tutti grazie